Buongiorno, le serve la mascherina per stare qui. Ha capito che le serve la mascherina? La prego, me lo dica un'altra volta! Cosa? Che le serve la mascherina? Che figura di cacca che ha fatto! Mi scusi? Prima mi diceva che non serviva la mascherina, e ora? Sì, ma... E ora, ops, ecco che servono! Chi aveva ragione? Chi aveva ragione? Lo sapevo fin dall'inizio, che incompetenti! Lei è la sua ABS! OMS! Ma perché non assumono quelli come me alla sanità? Glielo dico io perché per gli interessi politici! E tutti quei video in cui diceva che non serviva la mascherina al supermercato? Uh, come sono invecchiati male! Ma quanto sono invecchiati male! Invecchiati malissimo! Ha finito? Non ancora! Finisca! Era pieno di articoli super scientifici che dicevano che serviva la mascherina! Ma quanto siete stupidi! Ma quante morti avete sulla coscienza? Avete fatto solo disinformazione! Studi di più la prossima volta e non seguire il pensiero unico! Ho finito! Bene! Ha capito qual era il problema a marzo? Che voi medici dicevate un sacco di cose diverse e non volevate venderci le mascherine? No! Che non c'erano le mascherine! Beh questo per colpa dello stato irresponsabile! Io che invece sono un cittadino informato e responsabile le volevo comprare lo stesso! Sì ok ma non c'erano le mascherine! E allora perché poco dopo tutti le dovevano mettere anche per fare la spesa? Perché l'ha deciso il governo! Quindi servivano! Quindi sarebbe stato molto bello se tutti avessero avuto una mascherina chirurgica certificata fin da marzo! Ma sa c'era un piccolo problema! Quale? Che non c'erano le mascherine! Ma solo una al giorno! Non c'erano le mascherine! Eppure dopo l'obbligo tutti ce l'avevano! Se ha fatto un po' di attenzione si sarà accorto che in tantissime avevano mascherine improvvisate! Sa perché? Perché? Perché non c'erano le mascherine! Beh però ora ci sono! Ora ci sono e può comprarle per fare la spesa senza per questo toglierle a chi ne ha più bisogno! Ma i medici mica le comprano qui le mascherine! Beh in case disperate sì ma intendo soprattutto chi vive con persone fragili! I miei eroi! Hashtag eroi! Eroi tua sorella! Ecco a lei! Sono... Ah non le voglio più! Come? Sono venuto solo per prenderle in giro non voglio più le sue mascherine! E perché? Non ci casco due volte prima mi dice che non servono poi che mi servono! Ma ha capito il discorso che le ho fatto? Ho capito che avete tutte le idee un po' confuse è meglio che mi informi da solo! Ora le mascherine ci sono! Oggi mi dite così e domani chissà cosa vi inventate che devo comprare un cetriolo per schiacciare il virus? Non credo! Sa quante cose che vengono fuori appena ti informi un po'? Ho scoperto che con la mascherina respiri un sacco di anidride carborosa! Carbonica! Ecco appunto! Se fosse a livelli dannosi non pensa che i medici che la indossano per ore tutti i giorni starebbero male! Ho sentito che se fai attività fisica è pericoloso! In genere la si toglie per fare attività fisica! Metti togli! Devo metterla nei luoghi chiusi e poi toglierla per parlare con qualcuno! No se la togli per parlare con qualcuno è stupido sono mesi che lo diciamo! Ah non posso! La mascherina chirurgica serve per non contaminare le persone e non per proteggere se stessi! Se lei parla sputa addosso alla gente! Certo! Oggi mi dice così e domani mi dirai invece che sputare guarisce dal virus! Non credo! Non è stanco di fare figuracce? Devo insegnarle tutto io? Le vuole queste mascherine o no? No non le voglio! D'ora in poi mi informerò per conto mio! Ho capito che di voi non ci si può fidare! Dite tutto è il contrario di tutto! Sono stanco di fare quello che mi dice questa dittatura sanitaria! Siamo proprio come su 1984 di George Orwell! Ha presente 1984 di George Orwell? Beh se lo lega un po' di cultura le farebbe bene! Io ho visto il film e ho capito tante cose tipo che nessuno può togliermi i diritti! Perché noi abbiamo dei diritti! Sa precisamente l'articolo 3,2 del Vangelo secondo Matteo dice che... Pronto? Ah! Ok! Cavolo un giorno vai da nonna a mangiare il pasticcio e tre giorni dopo te la ritrovi in ospedale con la polmonite! Questo spiega molte cose! Può firmare la mia petizione per togliere l'antenna 5G dal mio paese? E insomma ora che ci sono le mascherine il video in cui si diceva che era meglio non comprarle è proprio invecchiato malissimo! Come lo spot di Twister quello che incita a giocare con persone non congiunte e poi ci si ritrova tutti ammucchiati! Invecchiato malissimo! E lo striscione ancora attaccato per strada della sagra del musetto? Come è invecchiato malissimo! Per non parlare della stagione teatrale 2020 quella sì che è invecchiata!